Momenti di paura si sono vissuti questo pomeriggio in Viale Cittadini a D'Arezzo. Una bici con a bordo un 63enne, il nipote di 4 anni, è stata investita da una panda che stava andando in direzione di Saione. Chiaramente per la presenza del bambino a bordo della bici ci sono stati attimi di apprezzione. Subito intervenuta l'automedica in ambulanza del 118, sia il 63enne che il nipote di 4 anni sono rimasti feriti, hanno riportato un trauma cranico non commotivo e per questo sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Arezzo. Il traffico che è stato chiaramente bloccato, un incidente che certamente poteva avere conseguenze ben più gravi, per fortuna sia il nonno che il nipote non sono in pericolo di vita. Grazie a tutti.